Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Pippo Baudo, il ritorno in pubblico che ha fatto preoccupare i fan. Dopo mesi di voci e chiacchiere sulle sue condizioni di salute, il celebre conduttore è riapparso in carrozzina durante i festeggiamenti per i 90 anni dell'amico Pier Francesco Pingitore. La sua presenza ha subito sollevato dubbi e preoccupazioni tra i suoi sostenitori, ma adesso è stata la showgirl Valeria Marini a rassicurare tutti sulle reali condizioni di Baudo. Le voci sulle presunte gravi malattie di Pippo Baudo erano iniziate lo scorso maggio, ma il conduttore stesso aveva smentito tutto, dichiarando di stare bene nonostante dei problemi alle ginocchia. Tuttavia, il suo ritorno in carrozzina ha fatto riaffiorare le preoccupazioni. Durante la festa di compleanno dipingitore, l'amico ha confermato che Baudo si è divertito e ha trascorso una giornata piacevole, rassicurando sul suo stato di salute. Anche Valeria Marini ha confermato che Pippo Baudo sta bene, meglio rispetto alla volta precedente e che è sereno e tranquillo. Nonostante i problemi di salute che lo tengono lontano dal piccolo schermo, c'è la speranza di rivederlo presto in televisione. L'importante è che lui stia bene e che possa recuperare la sua forma migliore. Dopo mesi di incertezze e preoccupazioni, sembra che Pippo Baudo stia affrontando la sua situazione con serenità e ottimismo, circondato dall'affetto degli amici e dei fan. La sua presenza alla festa di compleanno dipingitore ha rassicurato tutti sulle sue reali condizioni di salute e ha fatto sperare.